buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video settimana 3 capitolo 3 stagione 3 incarichi settimana salta da un trampolino bisogna arricarsi qui nel laghetto vicino a crocevia e sopra pinnacoli pendenti trovare un trampolino all'inizio pensavo che fossero quelli del motoscafe ma in realtà non sono questi perché non da niente e non sono neanche le rampe e il palco come quello che c'è qua guarda che abbiamo chiamato la vita adesso scendiamo sulla lampa dovrebbero essere questi qui magari sarebbe utile saltarci sopra e non schivarli ok 1 2 3 lasciate un bel like al video per supportare il canale se volete vi trovate ancora attivate la campanina perchè tutte le settimane pubblico i codici per riscattare oggetti dedicati al mondo di street barbec in collaborazione con Fortnite per questo video è tutto e alla prossima ciao